Fabio Ricci, centrale di Gunassir Safet di Conard Perugia che oggi ha badato al sodo, si può dire? Beh sì, come tutti, come tutti abbiamo badato al sodo. Oggi è venuta bene, il primo set un po' così così, poi gli altri due non ci niente da dire. Una Perugia che sta acquisendo pian piano mentalità vincente, dicevamo con Colaci, e una Perugia che si sta dimostrando veramente solida. Quanti sono ancora i margini di miglioramento secondo te però? Secondo me ce ne sono ancora parecchi perché oggi è il primo di novembre, siamo tutti insieme da cinque settimane, quattro settimane. Io direi che adesso come adesso è di non metterci limiti e obiettivi, cercare di migliorare tutto il più possibile e poi dopo vedremo dove questa Sir può arrivare. Oggi hai avuto la possibilità di entrare sin dal primo minuto, qual è il tuo giudizio verso la tua prestazione? Beh, sono abbastanza soddisfatto. Si poteva fare meglio alcune cose, come avevamo detto prima, però alla fine poteva andare anche peggio, quindi alla fine va bene così. Una Perugia che ha grandi doti a muro ma siccome ne ha forse ancora di più in battuta non si riescono a vedere proprio questi muri di Perugia perché i battitori riescono a scalfire ancora di più prima che la palla torni di qua. Sì, il muro è figlio della battuta, se battono male giocare a muro è dura, battendo così, facendo ace, slash, palle staccate da rete il lavoro è molto più facile. Grazie. 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 Grazie.